In questo momento abbiamo in studio il sindaco di Pagani Lello De Prisco. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a chi segue la diretta. Ha apprezzato un po' Annalisa. Molto, apprezzo molto Annalisa, sotto tutti gli aspetti. Perfetto, è come darle torto insomma. Allora, parliamo della festa della Madonna delle Galline. È stata rinviata la processione per esigenze di tempo, però questo ci dà modo di apprezzare ancora di più quello che è stato i primi giorni e di poter continuare a festeggiare per questi altri giorni. Intanto grazie per darmi l'opportunità di fare informazione e non disinformazione come capita sovente sui social. La festa è stata rinviata dall'Arci Confraternita perché sono loro i detentori del culto per cui da tradizione, qualsiasi sia il tempo, il venerdì si aprono le porte del santuario e come da tradizione, forse penso ci sia anche un protocollo all'interno dell'Arci Confraternita, si aspetta soltanto dopo la messa delle nove, quindi dopo le nove, per annunciare se c'è o meno la processione causa maltempo. Per cui il sindaco è estremamente esente da questa decisione, sono presente nella misura in cui, essendo colui il quale deve garantire l'ordine pubblico, mi devo mettere a disposizione settimana per settimana quando la processione ha l'inizio. per cui in quella fase, quindi verso le 10, mi fu chiesta soltanto la disponibilità per garantire il weekend che sta per arrivare l'ordine pubblico in città perché la processione sarebbe tenuta la domenica. È chiaro, quindi diciamo che l'amministrazione prende atto di una decisione che non prende lei e poi va a gestire ultimamente la questione. Questo è il nostro compito, in questa festa della Madonna delle Galline noi curiamo, tra virgolette, la sicurezza dell'evento, quindi la parte civile. Ovviamente lo faccio di buon grado, essendo la festa della Madonna delle Galline intanto sono devoto, anche l'amministrazione è devoto, tutti i pagani sono devoti, quindi se bisogna fare un sacrificio sia personale, nel subire tante critiche immeritate ma strumentali, sia da fare dei sacrifici come amministrazioni economici per garantire la sicurezza, lo facciamo ben volentieri. Non voglio che lei faccia un bilancio adesso, prima che finisca tutto, però diciamo che il riscontro già questi primi due giorni è stato molto positivo. Guardi, a differenza di chi fa polemica social, io vengo contattato e giro molto, le posso garantire che le persone presenti in città erano tante, tanto è vero che poi c'è stata quella manifestazione spontanea della domenica sera quando è finita un po' la pioggia, dove le migliaia di persone che erano presenti nei portoni sono entrate in piazza Corpo di Cristo ballando fino alle 13. ed è il motivo per cui, sin dal primo momento, ho detto che la festa continuava, non perché non ce ne fosse stata un'altra la settimana dopo, ma la festa continuava per quanto riguarda l'ordine della sicurezza, voleva dire garantire la chiusura delle strade, garantire la security, garantire la polizia locale, perché erano presenti in città, e lo sapevo benissimo, centinaia, cioè decine di migliaia di persone, per cui doveva continuare il mio dovere di mettere in sicurezza la città, e poi si è dimostrato così. Questo non voleva dire che la festa non fosse fatta, non si farebbe stata anche la settimana, seguendo la settimana che stiamo per vivere tutti quanti insieme. posto che, posto che quello che ho detto prima non decido io se la processione si fa o meno, e posto che certamente non è responsabilità mia se viene a piovere o meno. Eh certo. E vuole un po' ricordare il programma, perché è stato aggiornato per questo weekend? Sì, intanto ricordiamolo che c'è, diciamo il programma prevede la processione della domenica, poi c'è un momento, tra virgolette, civile, laico, istituzionalizzato, che è il concerto del lunedì. Ovviamente la città viene, si mette in sicurezza, e quindi si allestiscono anche le postazioni ambulanti, le cosiddette bancarelle, già dal sabato pomeriggio. Abbiamo quindi ripreso i parcheggi delle scuole, in maniera particolare hanno funzionato benissimo i parcheggi della Rodari, del liceo scientifico, tutto pieno, e del via Caduti di Superga, che sono tre parcheggi nuovi rispetto alla programmazione degli anni precedenti, che hanno reso molto agibile il parcheggio per i residenti, perché parliamo di parcheggio per residenti, poi ci sono i parcheggi per i non residenti, che sono altri. Se vuole gliele rielenco. Sì, certo, certo. Allora, noi abbiamo, è importantissimo sottolineare questo aspetto, parcheggi per visitatori, per cui Arena Pignataro, Largo Mammi, perché questa volta non c'è la partita casalinga della Paganese, quindi c'è anche lo Slargo davanti allo stadio, Largo Mammi, la Curva Ospite, quindi su Via Tipaldi, poi c'è il Consorzio Mercato Ortofrutticolo, c'è il Consorzio di Bonifica, quindi ci sono tantissimi parcheggi. Per quanto attiene invece a, e c'è il parcheggio, chiedo scusa, di Via Garibaldi, che suggerisco di occupare entro le 11 massima della domenica mattina, perché poi diventa difficile entrare in città, e sarà sicuramente pieno. Invece i parcheggi per residenti, quando parliamo di parcheggi per residenti, noi indicativamente abbiamo dato e sottolineato delle strade che possono andare a parcheggiare, e che sono le strade interdette da ordinanza. E mi riferisco in maniera particolare a Via Roma, Via Bari, il tratto di Via Mazzini, che può parcheggiare a Via Pittuni, Via Cesarano, Piazza Sant'Alfonso, che può parcheggiare a Larodari, piuttosto che al liceo scientifico. Ovviamente ci può essere il caso di Via San Domenico, ve lo dico perché mi è stato chiesto, Via San Domenico di solito parcheggia qualche macchina, non è interessata da ordinanza, ma c'è qualche residente di Via San Domenico che parcheggiava in Arena Pignataro, che diventa pagamento per la domenica. Ovviamente possono andare benissimo sia su Via Pittuni, che su uno di un parcheggio della Rodari, piuttosto che del liceo scientifico. Così come quelli di Corso Ettore Padovano, che per analizzato, nel caso non abbiano un parcheggio o di solito parcheggiano su strada o la domenica diventa inaccessibile anche per i residenti, possono soffrire del parcheggio non a pagamento di Via Caduti Superi, piuttosto che anche loro dei parcheggi di Via Pittuni. Lo faccio questo riassunto perché molti pensano, siccome abbiamo dato delle indicazioni, pensano che si sia escluso qualcuno, invece non è così. Noi abbiamo suggerito per le strade che sono oggetto di ordinanza. Ripeto, poi ci sta Via Le Trieste e Via Astadita, che sono interessate all'ordinanza di sgombero dalle auto, che parcheggiano a Via Trento, quindi nel parcheggio della Scuola Media Sant'Alfonso, e abbiamo preso il parcheggio di Piazza Cirio. Ripeto che se qualcuno ha necessità, queste sono delle indicazioni, può andare a parcheggiare anche un residente di un'altra strada. Quindi abbiamo questi 6-7 parcheggi per residenti e 6 parcheggi per i visitatori che sono usufruibili. Penso che il piano parcheggio sia funzionato molto bene e che ovviamente, pur che ho letto qualche polemica che non aveva funzionato il piano parcheggio, hanno fatto il titolo alcuni giornali, però poi nell'articolo dicevano altre, polemica sui social per il piano parcheggio. Ma se la festa non c'è stato, quale polemica ci deve essere? Ci sono dei... Va bene, no, no, ma siccome siamo qui per fare informazione, non disinformazione, ne approfittiamo di questi momenti in cui anche il sindaco può parlare, perché poi certamente non si può mettere a rispondere a tutti, sia per scelta, sia per volontà, sia per anche una questione di tempo. Chi lavora non ha il tempo da perdere, appresso a chi non fa niente dalla mattina alla sera. Così come c'è stata una polemica sulle bancarelle. Una polemica che è dovuta sia al posizionamento, sia ai costi. Allora, chiariamo subito che il posizionamento è dovuto soprattutto ad una scelta di sicurezza, che il decreto Gabrielli e il decreto piantetosi ti impongono, quindi chi dice che vuole le bancarelle in altro posto non mi dà un'alternativa, non scegli un'alternativa. Le bancarelle non stanno lì o non ci stanno. Questo varrà per i prossimi tre anni, almeno che l'unica soluzione potrebbe essere quella di dislocarli in maniera separata, quindi tre per parte, e quindi non ci sarebbe il percorso delle bancarelle. Questo per la ghirezza. C'è qualcuno che ha detto perché non le facciamo dietro alla villa, pur sapendo che c'è un cantiere sopra la villa comunale. Quindi quando si parla spiovere, si fa disinformazione. E la disinformazione non danneggia il sindaco di Pagani. La disinformazione danneggia Pagani, la festa e gli esercizi paganesi che potrebbero fare un buon introito in queste giornate. Se invece lo stesso Paganese, strumentalmente, crea la confusione, è il Paganese stesso che ci perde. Perché uno che viene da fuori dice ah non ci stanno i parcheggi, o non ci sono le bancarelle, o non c'è questo, o non c'è quello. Non si rendono conto, questi pedioti, del danno che fanno la città di Pagani per lo sfizio di un laic. Questo è il punto nevralgico e centrale anche della corretta informazione. Così come sui costi, l'idiota di turno che fa i comunicati, che è stato puntualmente querelato dal sindaco di Pagani, dall'amministrazione, sia la testata giornalistica, sia lui stesso, sia l'estensione dell'articolo, non si rende conto che è una festa in cui nei quattro giorni girano decine di migliaia di persone ha bisogno di alcune spese fondamentali. Noi le nostre spese per questa festa e evento sono suddivise in tre parti principali, quindi facciamo tre affidamenti. Il più importante, quindi il 70-80% della somma, quindi diciamo che quest'anno abbiamo investito con, perché ieri abbiamo fatto un'altra delibera da 8.000 euro, l'80% della somma viene spesa in sicurezza. Quando parliamo di sicurezza parliamo di Stuart, straordinario vigile, che fanno turni da 16-17 ore, parliamo di sbarre, delle transende, delle cosiddette transende, parliamo anche dei bagni, perché anche quella è una spesa esosa, noi ne abbiamo messi 15 di bagni chimici. Poi c'è l'altra spesa, quella delle informazioni, quindi parliamo di manifesti, le 10.000 mappe che vanno date ai visitatori, parliamo di qualche spot e informazione televisiva e radiofonica, l'ultima voce è quello dello spettacolo che facciamo il lunedì, che comunque coinvolge una città intera. Parliamo anche delle bancarelle, torniamo ai costi, quando si dice che le bancarelle spendono tanto, noi dobbiamo essere, le bancarelle a pagani, in media, spendono per 4 giorni 100 euro, perché il sindaco così ha fatto suddividere le giornate di festa, quindi la domenica e lunedì, perché sono domenica e lunedì, pagano 8 euro, perché abbiamo il disceso, le giornate non di festa, si paga 0,27 centesimi al metro quadro, quindi una bancarella di 5 metri quadri, per i 4 giorni, contando a 0,27 i due giorni, e due giorni a 8 euro, pagano all'incirca 100 euro, per cui tutte queste dicerie, che chi ha pagato 400, chi ha pagato 500, chi ha pagato 1000, sono fesserie, quindi una bancarella, per stare nella città di Pagani, i giorni della festa, paga in media 100 euro, per 4 giorni, tanto è vero che, quando, ovviamente non hanno pagato, questo weekend, che è stato annullato, pur si hanno lavorato qualcuno, anche la di domenica, ovviamente li abbiamo compensati, quindi domenica 12, il sabato lo pagano, e siccome è da 0,27 centesimi, in media la bancarella, il sabato pagherà tra i 5 e i 6 euro. Ok, e grazie di aver precisato questi aspetti, perché come sottolineava lei stesso, fare disinformazione, portando cattiva pubblicità, a chi viene da fuori, non fa bene per la città, quindi diciamo che... In realtà, chiedo scusa se la interrumpo, in realtà io ho avuto soltanto complimenti, perché poi al netto, dei 400, 300 stolti, che girano in gruppo, sui social, però io ho avuto soltanto parole di apprezzamento, guardi, si è fatta una polemica, sugli striscioni uscita, quelle sono norme di sicurezza imposte, anche il colore, è imposto, perché deve essere visibile la notte, e i punti sono stati, è stata un'esigenza mostrata, che noi abbiamo accolto dalla questura della prefettura, che le strade, determinate strade, dovessero essere indicate da striscioni. Le posso garantire, che chi è venuto da fuori, quindi gente meno provinciale, degli stolti, che spesso affollano i social, hanno avuto solo ed esclusivamente, parole di apprezzamento, perché è una festa organizzata, nei minimi dettagli. Poi certo, con decine di migliaia di persone, può sempre succedere qualcosa, noi ci auguriamo di no, questo weekend è andato tutto per il meglio, e credetemi, parlando anche con la security, con le forze dell'ordine, che non finirò mai di ringraziare, per la presenza, dalla polizia locale, carabinieri, guardie di finanza, polizia, steward, protezione civile, croce russa, hanno detto, che lavorare con la pioggia, è estremamente difficile, e il fatto, che non sia successo niente, con decine di migliaia di persone, anche sotto la pioggia, la dice lunga, di come ha funzionato, questo piano di sicurezza. Ecco, diciamo che le dinamiche, a cui ha fatto riferimento, sono le dinamiche, tipiche dei social, dove le persone, comunque parlano, anche di argomenti tecnici, di cui non hanno, comunque cognizione di causa. Eh, vabbè, io non ricordo, testualmente, la frase detta da Umberto Eco, sull'utilizzo dei social, però la condivido, in questo caso, pienamente. Poi ci sta pure, chi chiede, una corretta informazione, quindi chiede, e tu te ne accorgi, quando uno chiede, perché veramente, vuole informazione, sono persone, estremamente corrette, a cui meritano, di avere, anche per la millesima volta, la risposta, così come c'è sta gente, che attacca a prescindere, ripeto, ma noi questa polemica, e oggi mi sono voluto soffermare, eh, smendendo alcune cose, perché io voglio, che la mia città, viva, tre giorni, in piena serenità, che chi ci ascolta, soprattutto da fuori, sappia, la verità dei fatti, che Pagani, è piena di parcheggi, quindi può accogliere, centinaia di migliaia, decine di migliaia, fatemi abbassare il tiro, perché altrimenti, potremmo avere, problemi di numeri su Pagani, che non sono, che sono imposti, dalla, dalla legge, per cui, sono decine di migliaia, hanno, potranno svolgere, una, una festa, e assistere la festa, in piena, in piena sicurezza, quindi, so, passiamo alle notizie belle, che tutti quelli, che c'erano, sono stati nel weekend scorso, hanno confermato, le prenotazioni, i band break fast, ancora una volta, sono sold out, tutti quanti, hanno chiesto, di, hanno riprenotato, il bed and break, piuttosto che i ristoranti, dove, erano, allocati, dove avevano, mangiato, così come, tutti i toselli, che hanno fatto, anche somministrazione, hanno dovuto fare, di nuovo, spese, e quant'altro, molto volentieri, perché avevano consumato tutto. Ecco, mi consente il gioco di parole, quindi, questo significa, che dopo un primo assaggio, il piatto principale, lo vogliono tutti. Vediamo il, il lato positivo, se ho sentito oggi, il vescovo, a tv 2000, che ha avuto parole, di apprezzamento, per questa festa, c'è una città, in, in festa, e giustamente, nella sua, omelia disse, che la madonna, ha voluto portare, proprio un po' d'acqua, dove lì, dove c'è necessità, c'è stata siccità, il lato positivo, per la città di Pagani, e per chi assiste, a questa festa, è che la festa, è durata 10 giorni, esatto, per cui, vediamo, il bicchiere, ovviamente, mezzo pieno, ma non perché, è una magra cosa, perché in realtà, è così, la festa, sta durando, da 10 giorni, perché le persone, sono ancora, presenti in città, a piccoli ranghi, in questi, in questi giorni, ma dal sabato scorso, e in prospettiva, saranno decine, e decine di migliaia, presenti su Pagani. Molto, molto bene, allora, sindaco, la voglio ringraziare, di averci commentato, e delineato, anche tutti questi aspetti, anche gli elementi, di polemica, che per forza di cose, poi a un certo punto, uno deve andare a precisare. Le abbiamo precisate, e poi qui si stoppa, non è assolutamente, mia intenzione, proseguire, o da ratito, ad altre polemiche, ho precisato, bisogna concentrarsi, sulle cose da fare, sul lavoro, però ogni tanto, dopo due mesi, tre mesi di silenzio, ogni tanto, va anche risposto, direttamente, a chi ti accusa, in maniera strumentale. E certo, quando ci vuole, ci vuole. Che non è la, non è la parte politica, ci tengo a precisare, che in questa occasione, non è assolutamente, rivolta, la mia, la mia risposta, ad una parte politica particolare, sono le polemiche, che vengono fatte, come ha detto giustamente lei, spesso da persone disinformate, a volte strumentalmente, a volte veramente, perché ripeto, tutti vogliono parlare di tutto, ma non sanno quello che dicono, per cui, ogni tanto, si deve rispondere, per le rime. E certo, allora, ripeto, la voglio ringraziare, Sindaco Di Pagani, Lello De Prisco, di averci commentato, questi aspetti, quindi ancora, buona festa, siamo in attesa, di riprendere, questo weekend, di festeggiare, tutti insieme. E cerchiamo di fare, ci sono, momenti di festa, poi c'è, c'è il 25 aprile, che comunque, è giornata, festiva, quindi penso che le persone, si possano trattenere, stiamo ragionando anche su questo, anche nella giornata di martedì, di allungarci, c'è un altro, un evento sportivo, che potrebbe portare, in maniera positiva, anche un altro evento, per cui, ci si attrezza, per essere pronte, ad ogni evenienza. E noi lo racconteremo, dalla vetrina di tecnico, della casa. Così come annuncio già, che purtroppo, o per fortuna, c'è un nostro illustre concittadino, che sarà insignito, di un onere, di un onore molto importante, quello di guidare, il rinnovamento, nello spirito, Giuseppe Contaldi, quindi un movimento, laico cattolico, di migliaia, e migliaia, e migliaia di aderenti. Ci sarà questa iniziativa a Rimini, a cui sono stato invitato, sia come amico personale, ma sia soprattutto, come sindaco di Pagani, perché il nostro illustre cittadino, andrà a ricoprire, e quindi sarà investito, di questa, di questa incarico, a Rimini, nei giorni di lunedì e martedì, e quindi molto probabilmente, sarò lì, a portare il saluto, della città di Pagani. E questo significa, ulteriore orgoglio, per la città. Assolutamente. Grazie allora, sindaco Lello De Prisco, noi andiamo avanti, con la nostra programmazione, ci risentiamo, tra pochissimo, sempre qui, con Bnews su Radiobase.